Buonasera a tutti i web spettatori e benvenuti a questa nuova puntata di Fazzia Economia e Mercati, condotta da me Alfredo Pauciulo su Liberi TV, la web tv dei due miei liberi. Stasera come nostro comissueto, così come ogni 15 giorni, faremo il punto sui mercati finanziari mondiali e in particolare poi su quelli italiani, come sempre uno sguardo alla politica e soprattutto alla politica economica internazionale, su come nei movimenti di questa politica poi si hanno i riflessi, come i movimenti di questa politica economica internazionale ha i suoi riflessi poi sui mercati finanziari. Iniziamo innanzitutto col dire che stasera il loro standard è più 500, l'indice principale dei mercati azionari statunitensi ha segnato un nuovo record sui planili 820 punti di indice. Nelle scorse settimane come avevamo indicato c'è stata la discesa che aspettavamo nei massimi precedenti e quella discesa si è portata presto a poco nel primo livello di sostegno che avevamo indicato, quale possibile punto di ripresa del trend. Nello specifico sull'indice italiano tale è un punto stazionale a torno 18 mila punti 17,9 e oggi, in questa settimana, dopo aver toccato questo minimo già la settimana scorsa, il nostro indice si è riportato sui massimi settimane a torno a 18 mila e 400 punti. Allo stesso modo uno standard è pura 500, l'indice di azionario americano si è portato su questo nuovo massimo a partire da un numero relativo fatto registrare la scorsa settimana intorno ai 1780 punti. Bene, detta così, la situazione sembrerebbe migliorata, almeno dal punto di vista finanziario. In realtà non sembrerebbe proprio così perché dall'analisi statistica che cominciamo solitamente, che cominciamo sui mercati, ci indica con molta probabilità che un dato al riazzo sia solo un cosiddetto rinvazio prima di riprendere una discesa più incorposa. Ciò probabilmente, a nostro avviso, senza compromettere il trend comunque rialzista, sia sui mercati azionari, sia sull'eurorello. Pellegrossa anche ha fatto segnale dopo un minimo la scorsa settimana, ha fatto segnale che un massimo ha toccato 1,38 per poi ritracciare stasera attorno a 1,38. Quindi il nostro aspettativo per le prossime settimane è che vi sia dall'inizio settimana prossimo un'ultima prosecuzione di questo rinvazio che porta a nuovo l'indice standard 1,500 a paragono massimo fino anche attorno a 1,850 punti e magari per andare all'indice nostrano, 1,40, fino intorno al massimo precedente relativo di circa 19.000 punti, dopodiché ci aspettiamo ad un'interiore discesa, ma su livelli inferiori a quelli che è stato registrato la settimana scorsa, per andare a toccare dei cosiddetti supporti, cioè dei livelli di sostegno dei prezzi più in basso, che ora è meno, da cui poi potrà ripartire un tempo a rialzo. Mentre questo sui mercati azionali, dal punto di vista invece della materia prima, ci troviamo, per quanto riguarda l'oro e il petrolio, nelle situazioni che avevamo indicato proprio due settimane fa. Da una parte abbiamo il petrolio che, avendo mantenuto il livello di 90, parliamo chiaramente del petrolio trattato a Londra, dopo aver mantenuto il livello di 90,50 dollari a bariglia, si è riportato al riazzo e facendo registrare una crescita in due settimane, in quasi due settimane, di circa il 10%. Infatti in questo momento stazione attorno a 99 dollari e 11 nel bariglia. Allo stesso tempo invece l'oro, così come indicato, ha c'è stato perso dal supporto statistico che stazione oggi, è chiaramente una stazione come nuca a Rialzo, non più come nuca a Dittasso, di 1.250 dollari lunghi, si è riportato per attorno a un minuto relativi fatti registrati nei mesi scorsi, attorno ai 1180 punti, facendo registrato un minimo attorno ai 1.187 dollari luce e portarsi poi oggi di sopra di nuovo ai 1.200 dollari luce, registrando in questo momento un prezzo attorno ai 1.202 dollari luce. Tutto questo però non per quanto riguarda, se non riguarda mercati azionari, direbbe bene, allora l'economia si sta riprendendo, hanno ragione i vari governanti che ci dicono che l'economia si sta riprendendo, ha ragione il governo Letta e il presidente Letta che ci dice che nei prossimi anni l'economia italiana crescerà. Un falso, un falso assoluto perché la realtà è che le politiche che si stanno continuando a mettere in atto saranno solo politiche di redistribuzione ulteriormente della ricchezza dai ceti medi e dai ceti bassi verso i ceti più alti, diciamo sostanzialmente verso l'elite del potere. Questo va corto comunque agli altri mercati azionari perché sui mercati azionari sono quotati proprio le maggiori aziende nei vari settori, per cui la redistribuzione del reddito avverrà a favore di questa azienda, a scapito delle medie e piccole imprese, a scapito in genere comunque della borghesia, delle classi borghese, se possiamo ancora in questo ventunesimo secolo usare questa distinzione di classe ormai ottocentesca, ma di certo è che non solo in Italia, ma nei governi europei, ma anche negli Stati Uniti sta avvenendo, sta continuando anzi quella che è una grossa fase di redistribuzione della ricchezza dal basso e dal centro delle fasce medie verso l'elite economica a livello globale. Per cui anche se dovessimo avere dei lievi segnali di cresciti dal momento non ve ne sono e né tantomeno ce li possiamo aspettare rispetto a queste ulteriori manovre che inseriscono nuove tasse, è certo che seppur dovessimo registrare dell'allentamento comunque dei lievi di alzi dei vari pil nazionali, se dovessimo andare a vedere la composizione di questi aumenti o dei livelli del pil raggiunto in vari paesi, sicuramente potremmo osservare che nel pil all'interno di queste classi di prodotti interno lordo vedremo, troveremo una redistribuzione del prodotto interno lordo con un maggiore prodotto interno lordo prodotto dalle macro aziende o dalle aziende multinazionali e trasnazionali e con un minore prodotto interno lordo prodotto invece dalle aziende, dalle piccole e medie imprese soprattutto con un mercato nazionale o quindi poco orientato all'esportazione e con un mercato abbastanza maturo. Questo chiaramente esagererà, porterà a due, questo conduce chiaramente a due linee migliori elettrici che si manifesteranno sempre di più. Da una parte l'ulteriore calo dei consumi dovuti al calo della domanda interna dei consumi e soprattutto verso prodotti che non sono di pascia media e di cui non c'è necessità. Allo stesso tempo ciò farà avvenire sempre di più a livello di, diciamo, di struttura sociale ci sarà sempre di più una maggior esasperazione che comunque ha sempre attaccato a maggiori manifestazioni politiche in piazza, magari anche molto più spontanei come erano state in passato organizzate dai sindacati e questo chiaramente non aiuta, questa mancanza di solidarietà non aiuterà il sistema sociale e soprattutto a chi ha intenzione di fare, di creare di un'impresa, non sarà deluto in una situazione sociale del genere. Per cui il nostro obiettivo qui è di indicare come per quello che è possibile per chi abbia risparmi e ancora aiutare a chi ha ancora questa possibilità di non fare passi 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 e quantomeno mantenere le proprie posizioni all'interno della gerarchia economica sociale affinché questo possa mantenerci ancora liberi rispetto a un'elite, a un'elite di gerarchia che vogliamo, che si sta sempre di più palesando nelle sue azioni sempre più evidenti e palesi a un occhio, non dico attento, ma tantomeno un proprio disattento. Tra le altre cose però all'interno di questa distribuzione mondiale del reddito in occidente dobbiamo anche registrare il fatto che tra i due blocchi di elite principali, cioè quello atlantico e quello aeronusso, c'è comunque uno scontro in atto, tant'è che oggi vediamo e abbiamo assistito all'abbrassamento da parte di standard eppure non rispetto al debito di un singolo paese europeo, ma rispetto al debito di tutta l'Europa, chiaramente l'Europa non ha dei bond europei, quindi è ovvio che il diglassamento ha effetto soprattutto in genere su tutti i titoli di Stato dei Paesi dell'Unione Monetaria Europea, ma in particolare sui titoli del Fondo Salva Stato che fino ad ora viene messo dal Fondo Salva Stato del meccanismo europeo di stabilità, che finora godevano di una tripla A e che oggi invece sono stati debassati e quindi sostanzialmente rendono da oggi in poi un po' di più. Beh, da questo punto di vista il mio consiglio rispetto a questi titoli è, bene, ci fa piacere che stando eppure lì dei tassi, ma visto che in poche modo bisogna collocare i propri risparmati affinché non li perdiamo completamente, bene, questo debassamento ci fa un paura, perché se sul mercato questi titoli vengono votati più in basso e quindi danno un maggiore rendimento, ci dà la possibilità di acquistarli ottenendo dei maggiori rendimenti. Dallo stesso tempo con molto meno preoccupazioni rispetto all'acquisto di altre attività finanziate come possono essere i titoli di Stato, dei vari Stati nazionali che compongono l'Una Italia. Stato, dei vari Stati nazionali che compongono l'Una Italia. Sì, perché c'è questa politica di rigore in Europa, ma anche perché, bisogna chiarirlo, perché ogni colpo assistato all'Europa economica e all'Europa finanziaria è un colpo a favore, dell'economia e della finanza atlantica e soprattutto statunitense, perché ci sono comunque questa distribuzione da basso verso l'alto e se c'è questa distribuzione è perché determinate risorse, anche per le tassi dell'elite economica, iniziano, come dicevamo ormai da mesi, ormai da un anno, iniziano a scarseggiare. Per cui c'è questo drenaggio, non solo, quindi sicuramente c'è dal basso e dalla classe media verso l'alto, ma in più tra le classi arte c'è lo scontro tra varie visioni del mondo, varie organizzazioni che sono più o meno in concorrenza tra di loro ad accadarci queste risorse. E quindi, così per semplificare, parliamo di, ci piace indicare come semplificazione un blocco aereo russo, aereo asiatico, è un blocco atlantico con delle componenti anche in Europa che a livello di elitto si scontrano anche tra loro in una guerra finanziaria, ormai anche i massimili di regime, anche la RAI e anche altre tv per un'idea, fanno tranquillamente ormai di guerra finanziaria in atto, non si fa più mistero di questo, per chi voglia avere un orecchio e un occhio attento alla situazione. Quindi in questo scenario, chiaramente noi singoli individui o piccole comunità che non hanno forza di giocare una tra virgolette guerra del genere, abbiamo solo la possibilità di poterci difendere per quanto riguarda, difendiamo la nostra base di risparmio, affinché possiamo perdurare in questa crisi senza danni ulteriori, oppure se, qualora mi fosse delle opportunità, se dovessi prendere il bene segnalo sicuramente, oppure se riusciamo a trovare, se si riesce a trovare delle nuove occasioni per io fare l'impresa o per avere lavoro. Quindi diciamo che mi premurerò in questa trasmissione d'ora in poi non solo di segnalarvi come gestire il risparmio o come dare l'indicazione di bravi termine su come muovere il proprio processo finanziario, ma se dovesse capitare di valutare dei mercati interessanti, dei mercati in cui fare impresa o dei settori in cui poter cercare lavoro, sicuramente ne farò partecipi tutti gli spettatori della trasmissione. Quindi sostanzialmente diciamo lo scenario non è cambiato rispetto a quello che paventammo già fin dalle prime puntate, anzi sembra a volte con maggior vigore, a volte con minore vigore, sembra che continui questa politica di rigore al livello internazionale il cui l'obiettivo è solo un drenaggio di risorse dal basso verso l'alto. E' chiaro che in questo scenario continui quindi a permanere sui mercati finanziari una forza dell'Euro 1.2 del dollaro, perché nell'Euro non si fa ancora una quantità di visimi, non si fa ancora una quantità di agevolazione monetaria, benché Draghi l'abbia annunciata più volte e comunque aveva dei segni, ma non si fa ancora una tale di proporzioni tali da essere comparata a quelle fatte in Europa, in Giappone e negli Stati Uniti. E questo chiaramente fa sì che gli investitori apprezzino l'Euro nei confronti del dollaro, quindi acquisti in Euro e vendono invece piuttosto del dollaro. Da questo punto di vista, sul medio periodo, a nostro avviso il trend a rialzo dell'Euro contro il dollaro continuerà, anche se momentaneamente, visti i livelli per raggiungere qui a Giappone nella settimana in corso, in cui ha fatto registrare un massimo 1.8.10 il cross all'Euro per poi riportarsi indietro, quindi quando ha fatto un doppio massimo vicino al massimo di due settimane in realtà, è molto probabile che prima di prendere questa trend di altista ci sia da prima un ribasso che potrebbe portare i prezzi del cross all'Euro dollaro fino attorno anche a 31,20 dollari per un Euro e seppure si devesse arrivare a questi livelli anche attorno a un 1,30 e 50, diciamo che questi livelli, soprattutto se dovesse osservare il mantenimento degli stessi, sarebbero un'ottima occasione di ingresso per acquistare dollari, per acquistare scusate Euro e vendere dollari. Da lì poi potrebbe partire un rialzo che, la cui istanzione finale del momento, come già ricordiamo due settimane fa, potrebbe prodarsi fino a 1,41 e 60, 1,42 dollari contro l'Euro. Lo stesso scenario, cioè quindi di un top momentaneo raggiunto sul cross Euro dollaro che potrebbe vedere nella prossima settimana già e con quelle prossime settimane in un ribasso, prima di proseguire il trend a rialzo, lo stesso scenario diciamo si presenta sui mercati azionari. In particolare nello specifico sul mercato azionario nostrano, uno dello standard del Futsmix 40, dopo aver assistito il minimo questa settimana, ma anche la scorsa settimana, attorno ai 17,7, 17,9, per occhiudere il massimo che indicano negli scorsi mesi il massimo da superare per avere un trend, un campionato del trend, beh fin a mantenimento di quel livello il trend a rialzo, sebbene con miglior di ore rispetto a tante, come l'ha stato il mese scorso, riprenderà, anche se anche in questo caso a nostro avviso è possibile che la settimana scorsa, la settimana prossima assisteremo ad un ulteriore prelungamento di questo rialzo in corso che vede l'indice oggi a 18.600 punti circa e che potrebbe proseguire fino a 19.000 punti, 19.100, 19.200 punti, più o meno attorno al massimo del mese scorso, per poi invece vedere una discesa fino attorno a 17.312, 400 punti in base, più giuro rispetto al minimo di questa settimana, o addirittura anche a prolungarsi fino a 16.700 punti di indice. Da quel livello poi potrebbe partire invece, potrebbe ripartire un trend sostenuto a rialzo. Quindi i punti cardine su Cutsmib e sulla cross aerodollare sono al ribasso di 16.700 punti per Putsmib, livello a cui se vediamo che c'è un forte sostegno e che i prezzi stendono a toccare quel livello, comunque se lo toccano riescono a permanere con molta forza al di sopra, è sicuramente quello indicativo di un perminabile punto di acquisto per i mercati soldi sul mercato nazionale italiano, così come il livello di 1,30, 1,30 e 50, 1,31 e 20 è altrettanto per il cross aerodollaro un importante punto di intervento per acquistare e portare a biazzo la posizione dell'euro nei confronti dell'euro. Nel tuo tempo per quanto riguarda il petrolio quotato a Londra, forse è l'unica attività finanziaria da quella che teniamo sotto osservazione che potrebbe non avere questa tendenza di subire prima un ribasso per poi avere il contraponto al rialzo, per poi lo seguire il rialzo e invece potrebbe proseguire tranquillamente al rialzo, magari con una minore intensità mentre i mercati azionari scendono nelle prossime settimane per poi avere maggiore intensità nel rialzo nelle settimane successive quando i mercati azionali, come almeno prevediamo, potrebbero poi riprendere la linea del rialzo. Quindi in questo senso il consiglio magari per la prossima settimana, per chi vuole fare breve operazione di trading è mettersi a biazzo sul petrolio quotato a Londra e mettersi a biazzo sul mercato azionale per fare l'euro. Quindi cerchiamo di sfruttare tantomeno il mantenimento dei prezzi se non il rialzo del petrolio quotato a Londra e allo stesso momento per coprirsi dalla discesa dei costi sui mercati azionari. Per quanto riguarda loro invece al momento il fatto che abbia oggi anche oggi toccato questo minimo attorno a questa settimana che abbia toccato il minimo a 1.187 di tonda rilunce, cioè poco sopra il minimo fatto registrare nello scorso semestre, quindi verso giugno, ci indica la possibilità che si stia formando un doppio minimo similatico di prezzo da cui il tuo partito non attende a biazzo, da cui forse però fino a tempo non si dovesse superare i 1.300 euro a Londra e non si manifesterà. Per cui l'indicazione del momento sull'oro è di acquistare su questo livello ma con uno stretto, cioè attuando i 1.800 euro a riluncia, ma acquistare proprio in un'ottica speculativa tale che se il prezzo dovesse portasse sotto i 1.180 euro a riluncia, bisognerebbe chiudere le posizioni addirittura e invertirle, cioè quindi per i vari bassi. Quindi rischiare questo 2%, quindi a quest'anno a 1.200 e eventualmente chiudere sotto i 1.180, rischiare questo 2% di perdita, però rispetto alla possibilità che invece i costi non usciranno più sotto i 2 perdita, il massimo ottimo tantomeno attorno a 1.285 dollari rilunce, quindi per un poterebbe fare un'operazione del genere. Se dovesse essere tale questa operazione, a torno 1.285 dollari riluncia, bisogna riferire qua il comportamento di prezzo, perché se dovesse essere superato il livello di 1.285, molto probabilmente si arriverà subito intorno a 1.300 e superato il 1.300, ancora di più il 1.350, a quel punto il treno dell'ora, a meno di breve medio periodo, si sarebbe invertito e potrebbe vedere un piazzo di più, stiamo andando però già oltre, ma ormai ci siamo e lo diciamo, a quel punto potrebbe tantomeno, superato i quei livelli, a quantomeno riportarsi attorno a 1.520 dollari, 1.460 e 1.520 dollari rilunce. Comunque attualmente a stretto giro, per una breve operazione di speculazioni, potrebbe essere conveniente acquistare ora in questo momento attorno al 1.200, per poi vendere, se dovesse in perdita del 2% sotto i 1.180 dollari rilunce, oppure prendere profitto a 1.285 dollari rilunce, con un volante del 7%. E allora dovesse verificarsi lo scenario ribassista dell'ora, cioè andare sotto, vedere quindi, osservare i prezzi, andare sotto i 1.180 dollari rilunce, a quel punto conviene perdita del 2%, chiudere l'operazione, però può poi mettersi al ribasso per sfruttare l'ondata ribassista che da lì molto forte potrebbe manifestarsi e potrebbe a quel punto portare i pezzi dell'ora a meno, quasi in un'unica ondata mensile, a meno fino a torno a 1.100-1.090 dollari rilunce. Da lì poi, se questo livello poi dovesse essere raggiunto e se l'oro dovesse mantenersi poi sotto questo livello, si tenga presente che a quel livello passa una trend line rilunzista, quindi un da cura sulla quale i corsi e i prezzi dell'oro si sostengono ormai dal 2004. Per cui è molto importante il livello di 1.090 dollari rilunce, per loro dovesse esserci questa componente al ribasso, perché da lì potrebbe essere finita una fase di scarico al ribasso dell'oro e da cui potrebbe ripartire quanto meno, se non un rialzo verso i nuovi massimi storici, ma un rialzo di grossa ha sempre un'importanza a livello del trend mensile e che potrebbe poi portarlo fino anche a 1.460-1.520 dollari rilunce di cui indicavamo prima. Per quanto riguarda i malitati azionari in particolare, come sempre continuiamo a consigliarvi gli stessi settori, perché non essendo usato il personale economico e anzi ci sembra che continui sempre di più la tendenza che abbiamo già detto all'inizio della trasmissione e che abbiamo già detto nel corso delle altre trasmissioni, è chiaro che in uno scenario economico del genere dove i consumi si contrattranno sempre di più, resteranno i consumi estrettamente necessari, benché possano subire comunque dei ulteriori riduzioni, ma non dovrebbero subire delle riduzioni in maniera tale da compromettere la redditività complessiva delle aziende che producono bene o servizi a domanda abbastanza rigida. Allo stesso tempo, oltre alle aziende che producono bene o servizi a domanda rigida o comunque poco elastica, i settori su cui puntate sono il settore del lusso, proprio perché se l'elite economica continua a donare risorse avrà ancora più a disposizione la possibilità di acquistare vendi, ma parliamo di grande lusso, non parliamo di fabbretto lusso di media portata. In più, a questo aggiungerei anche i titoli delle aziende che sono nel mercato dei giochi, perché c'è un paradosso, o meglio, c'è un aspetto controintuitivo a livello di studio della sociologia economica sul comportamento della massa nelle situazioni economiche più disparate. E uno di questi è che, in presenza di una crisi economica, in genere aumentano le quote di gioco. Cioè, le persone, pur non utilizzando molti soldi, che già ne sono pochi, per giocare e quindi magari eventualmente fare una visita, però proprio per avere una speranza, una possibilità di riscatto, qualche, fra piccolate, spicciolo, qualche euro, ne mettono in giocata proprio per avere la possibilità di riscattarsi in un momento o all'altro. E quindi è un modo per darsi una speranza rispetto ad una crisi economica che quindi non sembra vedersi la fine. Quindi anche il mercato dei giochi sicuramente può essere interessante, però è importante acquistare azioni quando i multipli economici di queste aziende sono, diciamo, più o meno sostenibili e interessanti. Quindi comprare delle aziende che magari hanno in quel momento l'azione di cura un prezzo massimo dieci volte di utile, non di più. Quindi, su Italia c'è il GTEC, l'Exil Automatico, oggi GTEC, che potrebbe essere interessante e nelle prossime puntate inizieremo a tenere sotto osservazione, quindi dando anche dei livelli di prezzo su cui intervenire. Allo stesso tempo, per quanto riguarda il bene a domanda rigida, o comunque bene in servizio a domanda comunque poco elastica, come sempre vi indichiamo il settore energetico, il settore delle municipalizzate e anche poi qualche azienda che magari produce macchine industriali o comunque componentistiche industriali, però in questo caso se sono aziende che esportano molto all'estero. E ancora, considerando che in uno scenario di crisi economica permanente è più difficile che le persone acquistino nuovi beni, quanto piuttosto invece sono condotte a ripararli, convivrebbe nei vari settori di beni durevoli acquistare le azioni di quelle aziende che producono ricambi per le auto. E quindi se facciamo un esempio del settore auto, piuttosto che acquistare azioni di aziende di case auto mobilistiche, conviene piuttosto acquistare azioni di aziende che producono ricambi per le auto, perché è probabile che lo scenario che ci troveremo all'assista nei prossimi anni, sarà quello di un turnover nel ricambio dei beni durevoli che avverrà, che si allungherà, per cui aumenterà la domanda sempre di più a nostro avviso di pezzi di ricambio per questi beni durevoli. Ho fatto esempio il mercato delle auto, ma lo stesso discorso vale per tutti gli altri mercati dei beni durevoli. Anche ora mi accordo che come sempre siamo aggiunti, anzi abbiamo sforato anche abbastanza il nostro tempo a disposizione, per cui anche stasera vi lascio con le consultazioni che abbiamo fatto, dandovi appuntamento a mese prossimo e in più augurandovi da parte di tutta la redazione di Liberi TV, augurandovi un buon Natale e un buon Natale e un buon Natale e un buon Natale, sperando che, anzi, augurandoci e volendo che sia veramente un anno di rinascita. Buonasera a tutti da Pedro Pauccio e da Liberi TV. Grazie. Grazie.